Microfono in una mano, smartphone nell'altra e il portale peserochecambia.it a fungere da navigatore creando percorsi fra le opere pubbliche della città. Quelle completate, quelle in corso o quelle che devono partire ma che hanno già ottenuto finanziamenti. Peserochecambia.it è la nuova bussola della Giunta Ricci per l'operazione trasparenza su investimenti pubblici nelle opere grandi e piccole della città. Sindaco che ieri sera è passato dall'online del sito web all'offline di una camminata in compagnia di decine di cittadini per spiegare quanto si è fatto e quanto ancora si realizzerà. È un modo per far partecipare i cittadini ad una fase storica piena di insidie, iniziare da questa maledetta guerra e dall'inflazione ma anche piena di opportunità. Stiamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana portando a Pesero tantissimi investimenti sia legati del PNRR che è anche extra PNRR e ovviamente non c'è la consapevolezza nella città di quello che sta succedendo. Quindi abbiamo fatto questo sito che si chiama Peserochecambia che diventa un modo per verificare periodicamente come vanno i lavori anche per rendersi conto della mole enorme di investimenti. C'è anche un salvadanaio dove contiamo tutte le risorse che arrivano. Siamo arrivati a 1 miliardo e 600 milioni, quindi davvero una cifra spropositata e adesso abbiamo l'ansia di far conoscere questi investimenti che sono in arrivo a Pesero, finanziamenti contenuti, non progetti campati per aria e ovviamente speriamo di realizzarne gradualmente il più possibile. Una camminata partita da Rocca Costanza, uno dei finanziamenti che ha reso Ricci più orgoglioso. Qui siamo a Rocca Costanza, è un bene del De Magno, molto complicato, siamo riusciti a fare un accordo tra De Magno e Ministero della Cultura e quindi sovrintendenze comune per cui verrà completamente ristrutturato, verrà spostato l'archivio di Stato e al tempo stesso abbiamo ottenuto più di 2 milioni per fare il Museo Dario Folfrancarame, quindi un bene storico, culturale, uno dei più importanti della città che gradualmente nei prossimi anni riprenderà vita e diventerà centro nazionale perché avere il Museo di Dario Folfrancarame è davvero una grande opportunità per tutto il territorio. Un luogo che si trasforma in una struttura museale unica sul panorama nazionale in una sorta di analogia con quanto accadrà nella vicina via San Francesco col Museo della Motocicletta laddove sorgeva il vecchio tribunale. E quindi qui verrà realizzato il Museo Nazionale della Motocicletta che non esiste in Italia, un'operazione fatta con il Ministero della Cultura insieme all'Asi e quindi tutta la struttura verrà dedicata al Museo. Ospiterà ovviamente la collezione Morbidelli e è a disposizione dei principali collezionisti italiani e internazionali. Analisi sulle strutture ma anche sui collegamenti. Vedi l'illustrazione di nuovi percorsi ciclabili. Abbiamo finanziato la ciclabile su Via Cialdini perché oggi da Loreto venendo qua non c'è la ciclabile. Abbiamo ragionato con i nostri tecnici su dove farla perché dobbiamo cercare di impattare il meno possibile sui parcheggi. Abbiamo deciso di farla sui lati e quindi avremo una ciclabile su Via Cialdini simile a quella di Viale della Repubblica. In un rimbalzo di microfono fra Ricci e il Vice Sindaco Vimini l'illustrazione in passeggiata ha passato in rassegna anche luoghi chiave come Palazzo Livieri, gli Orti Giuli, l'ex carcere minorile e, per dirla con le parole di Ricci, anche il cantiere che fin qui ha fatto più arrabbiare. L'ex palasporti di Viale dei Partigiani, futuro auditorium Scavolini. Abbiamo deciso di fare questo auditorium da 2000 posti costruito sull'esigenza della musica, quindi del Rossini Opera Festival, ma poi sarà fondamentale anche per i convegni, per i congressi, per altre manifestazioni perché ha due passi dal mare, dagli hotel e dal centro. Quindi adesso coloro che sono dentro usciranno nei prossimi giorni e dobbiamo affidare gli ultimi 2 milioni e mezzo di lavori che sono lavori importanti, ma diciamo di finitura, non strutturali, i lavori strutturali, il tetto, i lavori alle fondamenta, quelli più importanti sono stati fatti. Mancano 2 milioni e mezzo tra impiantistica elettrica, termoidraulica e alcuni lavori edili esterni, insomma ancora c'è un po' di lavoro. Speriamo davvero di finire presto perché ci ha fatto molto arrabbiare ma il tempo stesso è molto importante.